L'autunno la fa da padrone e con lui arrivano anche le cimici asiatiche e serini verdi che a fine stagione mutano il colore in rosso marrone e che, se schiacciati, emanano un forte olezzo. La loro è una vera e propria invasione, sebbene piccole, la loro voracità è nota e non disdegnano nulla dai frutteti alle coltivazioni di soia, un'invasione che ha fatto scattare l'allarme per i raccolti dal basso all'alto vicentino, compreso il bassanese. Si parla di perdite di almeno il 50%, colpiti anche vigneti e uliveti, oltre il danno poi la beffa, perché purtroppo non esistono assicurazioni che coprono il danno da cimice e, cosa ancora più grave, mancano in natura insetti ad essi antagonisti o metodi che le possono arginare in maniera efficace.